Al comunale di Palma di Montechiaro, nel mercoledì del pallone, si affrontavano un Marsala arrivato in casa gattopardiana per limitare i danni e la squadra di Totò Catania vogliosa di consolidare il primato in classifica. Per regalare un mercoledì da Leoni, o semplicemente da Gattopardo se si preferisce, Peppe Balsamo schiera la formazione migliore, rinunciando al turnover troppo alta la posta in palio. Dunque lo galbenporta con sempre vivo a guidare la difesa, Cavaleri ciscardi in mezzo al campo, Di Somma a supporto di Tandurella in avanti. La gara finisce dopo appena tre minuti, tanto basta la Gattopardo per imporre la legge della capolista. Dopo 60 secondi lo giudice conclude spedendo in fondo al sacco un invito al bacio di Giovanni Di Somma. Due minuti più tardi Tandurella concede il replay e ancora l'assistman è lo stesso, Di Somma, così come è uguale il prodotto finale. La rete. Il comunale comincia la festa che potrebbe avere un banchetto più ricco se solo la Gattopardo non sciupasse numerose occasioni da gol. Il Marsala non è pervenuto e i palmesi si tengono la vetta d'eccellenza. Balsamo ha di che sorridere. Abbiamo interpretato la gara diciamo in modo perfetto perché non era facile, la mia preoccupazione era quella che a livello mentale magari abbassavamo un pochettino la guardia, però i ragazzi hanno risposto alla grande, faccio un grande complimenti alla squadra perché questa vittoria se la sono meritata in tutto e per tutto. Passano le giornate, aumentano le possibilità per i felini di giocarsi in pieno le chance promozione. Domenica dopo domenica la D sembra diventare meno utopica e più concreta. Del resto sognare illecito e non costa nulla.